Giovanna Pancheri, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare del libro pubblicato da Sam, società editrice milanese, a rinascita americana, la nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden. Leggo nel risvolto di copertina che Giovanna Pancheri è giornalista inviata di Sky TG24 dal 2005, è stata corrispondente da Bruxelles tra il 2009 e il 2016. Prima però ha lavorato in RAI e nei settori stampa e comunicazione della World Trade Center Association a New York, del World Heritage Center all'UNESCO di Parigi e poi come Policy Officer all'European Youth Forum a Bruxelles. E dal 2016 è corrispondente per il Nord America. Due anni fa, anzi tre, ha pubblicato Il Buio su Parigi. Giovanna Pancheri, partiamo proprio dalla fine di questo libro, dalla parte dei ringraziamenti, dove troviamo scritto che ogni libro che nasce cresce, arriva su carta, ha una sua storia e questa storia non è mai fatta dal suo autore. Certo, il libro è un oggetto molto plurale, ma in questo caso, Giovanna Pancheri, il libro lo è ancora di più perché questo saggio, che si sviluppa per circa 250 pagine, racconta veramente con estrema singolarità la pluralità delle voci dell'America, la pluralità delle voci che hai incontrato volta per volta e scrivendolo poi, mettendolo nero su bianco su questo libro. Sì, assolutamente, è anche questa la ragione dietro ai miei ringraziamenti perché così come era stato anche per Il Buio su Parigi, vista la mia esperienza, il mio profilo da giornalista e da inviata, è inevitabile che i miei libri trovino, secondo me, la loro anima soprattutto nei racconti sul campo. Anche il rinascito americano ha voluto farlo, c'è un'analisi di quelle che sono state le tematiche principali. Nei quattro anni di amministrazione Trump arriva il libro fino anche a ciò che accade subito dopo le recenti elezioni però tutto questo viene raccontato appunto non soltanto tramite dati, numeri, eventi ma soprattutto tramite le storie delle persone perché a volte tendiamo a dimenticare che la politica ha degli effetti concreti, le decisioni che vengono prese a Washington come a Roma, a Palazzo Chigi come a Casa Bianca poi hanno dei risvolti reali sulla vita delle persone e io credo che questo sia il modo migliore per poter raccontare anche le decisioni, le epoche politiche, soprattutto poi quando hai il compito in qualche modo di raccontare magari all'Italia un'America così difficile, così complessa come è stata l'America di Trump e come è tuttora l'America di Joe Biden. Il sottotitolo di questo saggio è La nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden. Prima che, Giovanna Pancheri, prima che la nazione diventi di Joe Biden, quanta strada dobbiamo ancora percorrere? È molto complicato questo percorso perché è un percorso che passa per la capacità dell'attuale Presidente di parlare anche a un popolo che non l'ha votato e che non l'ha scelto dopo quattro anni in cui chi era la Casa Bianca ha metodicamente cercato di esacerbare le divisioni interne al Paese e invece di parlare quasi esclusivamente a chi lo aveva scelto. Infatti il titolo del libro ha proprio in qualche modo questa aspirazione, quello di cercare di far capire che l'unico modo per poter andare avanti per il Paese è quello di avere un leader capace di parlare a tutti. Infatti rinascita americana prende ispirazione non dalla vittoria di Joe Biden, perché insomma ce ne vuole ancora prima di poter veramente parlare di una rinascita e comunque non si lega a mio parere soltanto alla vittoria elettorale dell'uno o dell'altro, ma prende invece ispirazione da un discorso famosissimo, un discorso di Gettysburg pronunciato da Abraham Lincoln che in quell'occasione dopo una battaglia sanguinosa aveva l'opportunità in quanto il capo delle fila degli unionisti di poter fare un discorso da vincitore dicendo bene adesso chi ha perso dovrà sottostare quelle che sono le nostre regole, le nostre dettami invece decise di fare un discorso completamente diverso, un discorso molto breve di profonda unità in cui sottolineava come il modo migliore per onorare i morti caduti in questa sanguinosa battaglia era quello di portare avanti un nuovo dialogo tra le parti con uno spirito di unione e con uno spirito che portasse verso una rinascita di libertà. Ecco io credo che questa sia la vera sfida di Joe Biden che in parte lo sta a mio parere facendo perché sta affrontando quelle che sono delle emergenze comuni poi a destra e a sinistra. La sfida del Covid ha cambiato e se vogliamo anche smussato le differenze ideologiche da un certo punto di vista perché purtroppo come sappiamo si muore sia che sia repubblicani sia che sia democratici, si perde il lavoro sia che sia repubblicani come se che sia democratici. Quindi da sfide così grandi si può uscire soltanto con uno spirito di unità. Se però il Covid smussa, parlando di America ma non solo, smussa questi aspetti della politica, il Covid esagera fortemente le differenze tra, come si diceva un tempo, le classi sociali? Sì, questo è stato particolarmente vero negli Stati Uniti, lo vediamo con alcuni riflessi anche in Europa ma non dobbiamo dimenticarci che in Europa abbiamo un sistema di welfare che comunque garantisce di più e che le disuguaglianze a livello economico e seppur presenti, esacerbate ovviamente da questa crisi sono comunque meno d'impatto rispetto a quelle degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è impressionante, lo racconto ovviamente con dovizia di particolari dati e numeri e anche interviste, incontri nel libro, il fatto che a morire sono state soprattutto le classi più povere della popolazione o anche le comunità afroamericane e latinoamericane dove l'incidenza dei decessi per Covid-19 è stato molto maggiore rispetto alla percentuale di queste persone all'interno della popolazione. Per non parlare ovviamente dei risvolti dal punto di vista occupazionale ed economico un paese dove già il divario tra ricchi e poveri è tra i più ampi nei paesi occidentali un divario che, lo ricordiamo, si è andato ulteriormente ad allargare negli anni di Trump ancora prima del Covid per la riforma fiscale che il Presidente Trump ha portato avanti che il Financial Times, non certo diciamo un giornale di sinistra, ha definito una riforma per plutocrati quindi, come dire, dando già l'indicazione di che tipo di visione quadrofiscale ha avuto il Presidente Trump beh, con il Covid questa diseguaglianza si è aumentata ancora di più non è un caso che il Presidente Biden insista molto su questo punto forse avrete sentito proprio notizie di questi giorni il suo Ministro per l'Economia, Janet Yellen, annunciare l'intenzione di una tassa per le grandi corporation a livello globale perché si sente la necessità di, come dire, cercare di diminuire questo gap tra le enormi ricchezze da una parte e le enorme povertà che si vede nel Paese andando anche a tassare chi ha di più per cercare di portare avanti invece chi ha di meno e chi in questo anno ha particolarmente sofferto perché in questo saggio rinascita americana ci togliamo anche un po' il pregiudizio che abbiamo che l'America è così avanzata e così avanti quando qui scopriamo che il concetto di povertà è un concetto veramente che ha dei livelli che, come ci racconti Giovanna Pancheri, sono dei livelli veramente straordinari che in Europa e in Italia nemmeno possiamo pensare Ora, questa rinascita americana che è sicuramente una rinascita molto lenta soprattutto nelle mani di Joe Biden ma non solo di Joe Biden soprattutto nelle persone che lui ha intorno Ecco, questo lo ricordo ai nostri ascoltatori non è un libro che è nato sulla spinta della nuova presidenza di Joe Biden anche ma è nato sulla spinta proprio di voler raccontare l'America quindi non è un libro che si adagia su quel momento dell'elezione americana ma spazia molto in maniera molto larga qui lo sguardo di Giovanna Pancheri si rivolge dal punto di vista politico della scienza e per quanto riguarda abbiamo già visto il coronavirus e poi soprattutto della società perché la società che racconti Giovanna Pancheri in questo libro a volte ha dell'incredibile Beh sì, perché in realtà è un libro che ho iniziato a scrivere due anni e mezzo prima delle elezioni quindi insomma c'è l'ultimo anno, l'anno elettorale, l'anno del covid e poi ha rivoluzionato inevitabilmente tutta una serie di cose all'interno del libro però il lavoro parte da lontano, parte quello che possiamo definire poi il primo capitolo il prologo che fu proprio il discorso di inaugurazione pronunciato da Donald Trump il 20 gennaio del 2017 dopo aver vinto le elezioni e da una necessità che sentì allora che era quella di girare per il paese viaggiare per poterlo veramente raccontare, spiegare agli italiani soprattutto per poterli spiegare questa America di Trump che è un'America che non si può capire e percepire stando soltanto nelle grandi città come ad esempio New York dove è comunque la sede, la mia sede principale e da qui questo viaggio che mi ha portato negli anni a andare in più di 35 stati soprattutto a passarci molto tempo a cercare di immergermi in quelle che erano le realtà locali di conoscere le persone, le storie, storie che a volte come ricordavi hanno dell'incredibile è vero e rimane reale che comunque gli Stati Uniti sono anche uno dei paesi più avanzati uno dei fari a cui guardare dal punto di vista della visione dell'avanzamento tecnologico ma anche sotto tantissimi punti di vista ancora un faro della democrazia importante a cui guardare tuttavia per esempio faccio un esempio su tutti in quest'ultimo anno alla fine nel momento più grave di crisi a chi è che ci siamo rivolti per trovare i vaccini e che di fatto sono stati gli unici in grado di poterli trovare e di poterli poi mettere a disposizione del resto del mondo sono gli americani che insomma ne hanno già tre e più altri in approvazione tutto questo anche grazie all'importante apporto del Presidente Trump insomma con i finanziamenti che ha dato la ricerca in quegli anni però da questo punto di vista quello che colpisce ancora di più è invece poi la contraddizione di un'America che su tante cose è profondamente indietro e che anche ha, se vogliamo, dei moti ideologici che a volte vengono eccessivamente sono stati eccessivamente forse accarezzati e giustificati in questi anni ci sono tanti incontri peculiari nel mio libro e che a mio parere ovviamente possono aiutare a capire meglio il paese dai racconti degli immigrati che attraversano il confine ai racconti di... Ai sette minuti di Mike Pompeo Esatto, ai sette minuti con Mike Pompeo c'è ovviamente la loro segretaria di Stato un personaggio secondo me quasi mitologico insomma per come anche lui come figura di estrema intelligenza di lucidità ma insomma non voglio spolerare troppo proprio di una grande freddezza c'è anche Anthony Fauci come sappiamo insomma il principale uomo alla guida di tutte le varie ricerche e task force anche governative sul Covid-19 però poi c'è anche per dire il leader del Ku Klux Klan piuttosto che il fondatore dell'alt-right quindi questi movimenti di estrema destra che sono particolarmente, sono stati particolarmente come si dice in inglese, vocal nei quattro anni di Trump e che poi abbiamo visto diciamo questo cosa ha portato con i fatti del 6 gennaio il fatto di non censurare questi movimenti quasi di lasciarli correre a ruota libera purtroppo ha fatto sì che poi dalle intenzioni si passasse alle azioni e però che cosa può fare Giovanna Pancheri Joe Biden ai confronti di queste pulsioni dell'estrema destra non è un terreno facile con cui avere dei rapporti e quindi Joe Biden su questo punto di vista non avrà un terreno facile no, non avrà un terreno facile però può cominciare a fare quello che tutti i presidenti prima di lui avevano prima di Trump avevano fatto cioè può e lo sta di fatto facendo condannare in modo molto forte questi movimenti isolarli e chiamarli con il loro nome terrorismo interno Joe Biden è stato diciamo tra i primi a pronunciare queste parole subito dopo i fatti del 6 gennaio non dimentichiamoci che questa minaccia è una minaccia che è cresciuta particolarmente negli ultimi anni tanto che nell'ottobre del 2020 come racconto nel libro quindi ancora diciamo nei momenti di presidenza Trump il dipartimento degli interni quindi un organo del governo Trump aveva dichiarato proprio il terrorismo interno di matrice suprematista di estrema destra la minaccia più importante attualmente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti quindi c'era consapevolezza di questa realtà ma un conto è averne consapevolezza quindi cercare di contrastarla cercare di arginarla cercare di punirla in modo esemplare un conto invece è quasi non curarsene o a volte se vogliamo strizzare l'occhio accarezzare questo tipo di movimenti nell'idea illusoria che possono portare consenso la verità è che invece non stanno portando consenso anche allo stesso Trump perché lui sappiamo ormai diciamo è quantificata la parte più estrema del suo elettorato i suoi fedeli qualsiasi cosa lui dica e faccia sono più o meno il 30% dell'elettorato repubblicano per i repubblicani è un problema certo ma su base nazionale non è una cifra così diciamo imponente ed importante e lui dopo i fatti del 6 gennaio dopo la sua incapacità di accettare risultati elettorali ha perso enormemente consenso all'interno del movimento all'interno dei repubblicani pensiamo ad esempio che il primo evento in cui lui è tornato a parlare che era la riunione del SIPAC se vogliamo la parte più conservatrice più a destra del movimento dei repubblicani del partito repubblicano ecco nel SIPAC addirittura è stato poi fatto un sondaggio su chi voleva Trump come candidato nel 2024 ecco Trump è proprio l'espressione che uno pensa ideale del SIPAC e invece ha preso soltanto il 52-54% di preferenze questo deve far molto riflettere come effettivamente questa sua base per quanto rumorosa è molto visibile quindi da questo punto di vista magari percepita in Italia come qualcosa di presente pericoloso che può assolutamente riprendere forza e vita in realtà non è così importante e non dimentichiamoci che poi gli americani sono profondamente pragmatici Joe Biden sta portando avanti una campagna vaccinale con enorme successo a grande velocità l'economia sta dando dei risultati molto importanti e si sta tornando ad avere prospettive di crescita addirittura del 6% per quest'anno quindi questi tipi di pulsione profondamente estremisti sono destinati nel momento in cui le politiche di Biden dovessero avere successo a rifinire un po' nell'ombra la storia per non ripetersi deve insegnare guardando il 2016 una riflessione si impone Donald Trump ha vinto proprio perché ha avuto l'intuizione di cogliere seppure concesoie taglinetti i frutti dei semi della disilluzione i frutti più amari del giardino della speranza ma gli unici in grado di definire nel bene e nel male una nazione così si chiude questo saggio nel definire nel bene o nel male una nazione noi qui torniamo a quello che dicevamo a proposito del sottotitolo a proposito della nazione di Joe Biden per cui il lavoro è sicuramente è sicuramente tanto quello che dovrà fare quello che sta facendo peraltro Joe Biden sempre che la questione del coronavirus che è comunque una questione ovviamente sanitaria ma fortemente politica e qui si gioca il futuro ovviamente non solo di Biden Giovanna Pancaeri no assolutamente e torniamo al discorso sulle diseguaglianze economiche perché proprio quella è la lezione che a mio parere bisogna imparare e che non è stata accolta dopo la crisi del 2008 purtroppo dove l'amministrazione Obama Biden fu un'amministrazione che diciamo agì su due direttive da una parte il salvataggio immediato di quelle che erano le grandi istituzioni finanziarie per non diciamo mandare il paese a gamba all'aria e dall'altra una forma di sostegno importante a quelle che erano le fasce veramente più povere della popolazione però c'è tutto un mezzo un mondo di mezzo che è stato dimenticato quella classe media la classe operaia che sotto i morsi della globalizzazione proprio di quella crisi del 2008 perdeva lavoro perdeva potere d'acquisto perdeva la possibilità di realizzare il sogno americano che poi per gli americani è molto più banale di quanto noi pensiamo il sogno americano a mio parere si può riassumere nel avere i soldi per pagare un mutuo di una casa le rate della macchina per mandare i figli al college quindi lavorare per poter garantirsi quel minimo di benessere che per gli americani è sinonimo di successo e questo sogno americano per tutta una fetta d'America purtroppo dopo la crisi del 2008 è venuto a mancare in un paese dove invece prima c'era questo mantra per cui se tu ti impegnavi nel lavoro se tu in qualche modo eri una persona dedita al tuo dovere inevitabilmente il risultato arrivava inevitabilmente il sogno si realizzava perché eri nel paese delle opportunità e per gli americani era molto difficile ammettere invece di non riuscire più a farcela di non riuscire più ad aggrappare questo sogno c'è tutta una parte d'America che si è sentita da questo punto di vista un po' dimenticata e incompresa da chi era la guida del paese e Donald Trump ha avuto assolutamente la verità nel 2016 di capire di captare questo disagio e di parlare a queste persone io racconto nel libro un po' ribaltando se vogliamo quello che era lo slogan kennediano che secondo me è molto spiegativo di come è la mentalità americana cioè non chiederti quello che il tuo paese può fare per te ma quello che tu può fare per il tuo paese lui invece disse no avete ragione se non riuscite a realizzare quello che voi volete non è colpa vostra ma è colpa del sistema è colpa dell'immigrate e così via insomma è da lì questo suo grande successo nel 2016 non ebbe più a mio parere non ha non ha avuto questa capacità nel 2020 non ha saputo ascoltare un grande disagio che c'era in quella stessa classe media operaia che l'aveva portato a successo nel 2016 vale a dire i timori e le preoccupazioni per il covid che invece erano presenti e pressanti proprio anche a causa di una situazione sanitaria non sempre eccellente come sappiamo come possiamo immaginarci negli Stati Uniti e questo l'ha portato alla sconfitta però attenzione perché questa crisi porterà inevitabilmente a un'ulteriore sofferenza di questa classe media se non ci sarà la capacità di ascoltarla se non ci sarà la capacità di ridurre questo gap di diseguaglianze economiche e però di avere un occhio anche nei confronti di chi vuole semplicemente poter tornare a vivere appunto il proprio American Dream e questa è la vera sfida per Joe Biden Giovanna Pancheri autrice del libro Rinascita Americana la nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden pubblicato da Sam società editrice milanese ma prima di salutarci Giovanna Pancheri invece qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Guarda sto rileggendo ovviamente sto studiandomi un pochino anche il libro di Obama l'ho già letto però ci ritorno molto spesso e poi sto proprio leggendo in questi giorni un libro che in realtà ha vinto lo strega l'anno scorso ma non avevo mai avuto il tempo perché diciamo è stato un altro no Mencarelli ah Daniele Mencarelli Mencarelli sì tutto chiede salvezza tutto chiede salvezza un libro così poetico esatto però diciamo che l'ultimo anno è stato per me un po' più complicato per la lettura di libri che andassero al di là della saggistica di cose legate al mondo americano e quindi sta recuperando diciamo i romanzi che avevo perso nel 2020 e tutto chiede salvezza è sicuramente un romanzo che è tutto da leggere non abbiamo ospitato anche l'autore Daniele Mencarelli ricordo che questo libro è pubblicato da Mondadori intanto grazie grazie davvero Giovanna Pancheri e buon lavoro grazie a voi